Per queste ragioni noi accompagniamo il voto, anche il voto favorevole alla mozione della maggioranza, con una sorta di appello a non buttare alle ortiche il filo sottile che ancora può legare assieme forze politiche, mondi sociali, esperienze territoriali, persone e culture politiche democratiche, antiche e recenti, le quali, anche al di là del passaggio referendario nel quale noi siamo coerentemente impegnati per il sì, ma che non vogliamo trasformare in una discriminante per il futuro, le quali, dicevo, costituiscono l'architrave per un governo non populista, non reazionario, dei difficili processi sociali e culturali con i quali dobbiamo e dovremo misurarci. Grazie. La ringrazio, deputato dell'Ai. Ora è scritto a parlare il deputato Andrea Mazzotti di Celso. Prego. Grazie, Presidente. Signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi. Scelta civica in tutto il percorso della legge elettorale ha sempre tenuto un atteggiamento coerente. Ci siamo astenuti la prima volta nel passaggio alla Camera perché ritenevamo che la prima versione dell'Italicum non fosse condivisibile e andasse migliorata. Abbiamo lavorato per migliorarla nel prosieguo del procedimento. Abbiamo pensato che l'Italicum arrivato nel secondo passaggio alla Camera dovesse ancora essere migliorato. Siamo stati, credo, gli unici a discutere emendamenti in Commissione e a presentarli. Abbiamo votato la fiducia quando è stata posta sul testo in seconda lettura alla Camera, motivando in modo chiaro sul fatto che per noi quei difetti dell'Italicum non erano tali da negare la fiducia al Governo perché pensavamo che dovesse proseguire nel suo percorso di riforma e dicendo anche che auspicavamo che delle modifiche venissero fatte nel caso successivamente. Quindi per noi venire a discutere del fatto che si possa modificare la legge elettorale in un senso più conforme a quello che noi abbiamo sempre proposto ovviamente è un fatto positivo. Certo, avrebbe molto più senso e avrebbe avuto molto più senso discuterlo nell'ambito di una riforma della legge elettorale piuttosto che non sulla base e in presenza di mozioni che avevano l'obiettivo principale di votare all'interno della Camera un documento che partiva dal presupposto che la legge votata è incostituzionale, cosa che era ancora più anomala, per non dire surreale, quando a pochi giorni di distanza la Corte Costituzionale avrebbe dovuto pronunciarsi e grazie a Dio ha scelto di non pronunciarsi in questo momento perché veramente in quel caso ci saremmo trovati a discutere, ad avere qui un dibattito che sicuramente toccherà la costituzionalità della legge quando la Corte si sarebbe dovuta riunire pochi giorni dopo per parlarne. Scelta civica ha sempre avuto delle posizioni molto precise, noi abbiamo sempre detto che piuttosto che avere i collegi delle dimensioni attuali avremmo preferito i collegi molto più piccoli, abbiamo sempre chiesto collegioni nominali, abbiamo sempre chiesto l'apparentamento al secondo turno o un premio di coalizione piuttosto che la lista, abbiamo sempre detto che non abbiamo un amore particolare per le preferenze. Questi sono stati dei punti che abbiamo sempre posto, li abbiamo anche fatti votare e ci piacerebbe sentire le posizioni degli altri gruppi. Perché noi oggi voteremo a favore della mozione di maggioranza che dice, che impegna la Camera a avviare un discorso sulla legge elettorale e voteremo contro le altre mozioni. Una, quella del 5 Stelle che ci riporta indietro di un bel po' di anni perché il combinato disposto della posizione sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale è che il nostro sistema andava bene come era per la gran parte della Prima Repubblica e quindi col bicameralismo perfetto, il proporzionale e le preferenze. Noi pensiamo che tutte e tre queste caratteristiche del sistema istituzionale che avevamo nella Prima Repubblica abbiano generato dei danni. L'Onorevole Dell'Ai ha sottolineato come il sistema proporzionale abbia funzionato. Ha funzionato in un certo modo anche e anche degenerato nella sua fase, soprattutto nella sua fase conclusiva. È abbastanza strano che un movimento che dovrebbe essere l'avanguardia dell'innovazione proponga il ritorno a un sistema che tutta la politica, la dottrina, la scienza politologica ha sempre detto che alla fine non ha funzionato e che tantomeno può funzionare in una situazione in cui esistono movimenti politici, come è il Movimento 5 Stelle, che la partita non la vogliono giocare, dicono io coalizioni non ne faccio. Quindi si fa il proporzionale e si sterilizza un quarto del Parlamento. Questo è il problema fondamentale della riforma elettorale, perché sia in Italia, ma è un tema che colpisce tutti i Paesi d'Europa o quasi, esistono forze che non vogliono partecipare al gioco elettorale e a coalizioni di governo e assumono una posizione esterna al sistema dei partiti. In un contesto del genere non avere una qualche forma di rafforzamento maggioritario significa condannare questi Paesi alle grandi coalizioni per sempre o perlomeno fino a quando questi movimenti esisteranno. Noi pensiamo che questo sia dannoso. Abbiamo anche sostenuto che si poteva pensare al doppio turno di collegio alla francese, a mille altre soluzioni, ma che portino a una semplificazione del sistema politico che consenta la governabilità. La Corte Costituzionale, qui molti se lo scordano, ha detto che la governabilità è un valore costituzionalmente rilevante. Lo ha detto nella stessa sentenza che ha dichiarato in Costituzionale Porcello. Tutti i partiti in quest'Aula adesso, dopo questa discussione, dopo questa mozione, avranno la responsabilità di fare delle proposte. Io ho sentito surreali dichiarazioni del tipo il governo faccia le proposte da parte di chi, fino alla settimana scorsa, diceva che il governo aveva sbagliato a impicciarsi di legge elettorale. Ho sentito dire all'onorevole Larussa, mi perdoni, che il governo stia lontano che noi poi facciamo in pochi giorni. Io lo spero. Col Porcello ci sono venuti dieci anni per liberarsi e dal giorno dopo si diceva che era sbagliato. Lo diceva anche Forza Italia, ma non si è riusciti a cambiarlo. C'è voluto una sentenza della Corte Costituzionale e un governo che si è imposto con la questione di fiducia, altrimenti non sarebbe stato cambiato manco lì. Quindi io spero davvero che i partiti diano dei segnali, ma dei segnali reali, perché se il Movimento 5 Stelle dice io voglio il proporzionale o nient'altro, un altro partito dice io voglio il maggioritario secco o nient'altro, un altro dice io non parlo, aspetto la proposta del governo, allora francamente le speranze di arrivare a una riforma dell'Italicum non esistono, perché quello che ha consentito in passato di arrivare a riforme elettorali sono stati o accordi tra maggioranza e opposizione oppure forzature di maggioranza a partire dallo stesso Porcello. Quindi questa mozione, questa discussione dovrebbe essere quantomeno, come posso dire, benedetta da tutte le forze politiche come un passaggio dopo il quale tutti saranno disponibili a sedersi e a discutere, altrimenti avremo fatto una bella discussione oggi, totalmente inutile, perché poi ci siederemo e ci saranno posizioni contrapposte pregiudiziali dalle quali nessuno si vuole scostare, perché è evidente che se si parte da una legge che prevede una qualche forma di premio di maggioranza per assicurare la governabilità, come ripeto la Corte Costituzionale ha detto, è essere assolutamente legittimo, pensare di passare da quella al proporzionale e dire noi abbiamo fatto la nostra proposta è francamente inaccettabile. Noi come gruppo di scelta civica abbiamo sempre partecipato alle discussioni, siamo partiti non dando il nostro consenso, siamo arrivati a darlo, siamo pronti a discutere delle modifiche e vorremmo che qui dentro, anziché strumentalizzazioni sull'autoritarismo, la riforma costituzionale e argomentazioni di questo tipo, quando si parlerà di legge elettorale, si parli esclusivamente di legge elettorale per arrivare a una soluzione condivisa, perché dopo questa discussione la responsabilità sarà tutta sulle spalle dei partiti. Grazie. La ringrazio il deputato Mazziotti di Celso e adesso la parola al deputato Cristian Invernizzi. Prego. Grazie signora Presidente. Diciamo che con un umorismo di fondo che sento nel mio animo che mi appresto ad iniziare questa discussione, perché sinceramente mi sembra di essere in una situazione paradossale, quella che fino a pochi mesi fa autorevolissimi esponenti del Governo, a partire dal Premier, che annunciava trionfante dopo l'approvazione appunto dall'Italicum le magnifiche sorti che avrebbe avuto questa legge anche in Europa. Ce le ricordiamo tutti le affermazioni riguardanti appunto